Ciao a tutti, ben ritrovati su Fumetti e Parole. Oggi faccio un video spettacolare, almeno per me è veramente spettacolare, perché sono molto contento, emozionato. Non vedevo l'ora, insomma, di fare questo video perché vi parlo di un regalo. Prima però, prima però, vi parlo un po' dell'incipit di questo regalo. Allora, prima di tutto sono degli amici che mi vogliono molto bene, che mi seguono su Instagram, su Facebook, non condividono la mia passione, non gliene frega una cippa di niente, ma comunque vedono le mie storie, insomma, vedono la follia che io faccio insieme a voi, i contenuti che creo, chissà se poi seguono i miei video su YouTube, non lo so assolutamente, ma sanno che sono un nerd amante dei fumetti, questo lo sanno. Volevano farmi un regalo fumettoso, ok? Quei farabutti hanno in qualche maniera contattato i miei amici ceffi, ebbene sì, semplicemente su Facebook, piuttosto che Instagram, hanno fatto un direct insieme a loro, e quindi si saranno un po' messi d'accordo. E sono stati ben indirizzati dal buon Iaio. Dopo vi spiego, proprio nello specifico, ok, che cosa hanno previsto. Apro e chiudo una parentesi, perché in realtà il regalo di cui vi parlerò a breve, che vi unboxo davanti, è legato a questo volume. Ebbene sì, allora, questo è il numero 100 delle storie, collana strafichissima della Bonelli. Insomma, ricordo a tutti quanti che sono 100 numeri, 114 pagine, ogni numero, ogni volume ha una storia a sé, totalmente indipendente. Solo rari casi, ad esempio Cassidy, troviamo, per esempio, o Napoleone, piuttosto che Lex Viver, insomma, troviamo delle storie che prendono due, tre volumi, ma sono veramente rari i casi. Diciamo che è una iniziativa editoriale veramente complicata, divertente, fatta scientifica, avventurosa, orrifica, figa, comunque veramente, veramente bravi, quelle della Bonelli, ad aver pensato ad una roba del genere. Purtroppo è terminata con il numero 100. Chissà, anche perché forse il rapporto qualità-prezzo, 4,50 euro, per molti non reggeva. Chissà, forse il lettore bonelliano, Bonelli ha voglia di una continuity maggiore, quindi questa serie non piaceva. Non lo so. Detto questo, questo è l'ultimo volume. Un volume molto interessante, sono contento che l'abbiano chiuso così, questa collana. Purtroppo la copertina del mitico di Gennaro, in questo caso non mi piace. Rende un po' l'idea, ma non mi piace per niente, purtroppo. Però vabbè, Aldo di Gennaro ci ha fatto vedere delle copertine strepitose negli altri 99 numeri, quindi zitti e mosca. Dicevo, questo volume chiude molto, molto bene le storie, perché abbiamo detto che ogni volume ha una storia a sé, indipendente. Tra l'altro anche il genere, non solo gli autori, i team grafici, ma veramente sono una diversa dall'altra. In questo volume si celebra proprio la narrazione e anche diversi generi, quindi all'interno di una stessa storia ci sono più storie. Non solo, ovviamente ci sono più artisti coinvolti, quindi la scrittura è di uno solo, già Maria Contro, che in realtà non è niente male come scrittore, ma di beccarmi qualcosa che lui ha già prodotto a me piace molto. Ma poi abbiamo ai disegni Cipriani, non è proprio il mio genere, sì, è un realista, ma non mi fa impazzire, c'è qualche piccolo errorino quella di proporzione che non mi ha convinto. Però, Bianchi, spettacolare, un ragazzo giovane alla mia età, quindi giovane, mannaggia voi cosa avete pensato, lui si è occupato della parte fantascientifica nello spazio, vi faccio vedere qualche scena fica, ecco qua, guardate che roba, veramente spettacolari disegni, i bianchi, poi abbiamo Max Bertolini, che a me piace molto, l'abbiamo visto un po' giro qua e là, non l'ho ben riconosciuto, perché in questo caso lui si è occupato della parte western, quindi questa storia ci ha portato nel mondo del west, e qui se ne davano di santa ragione i protagonisti, poi abbiamo Raffaelli, che ha fatto secondo me un disegno strafichissimo nel mondo della giungla, ecco qua, e poi chiudiamo nuovamente con i disegni di Cipriani, e qui diciamo, ci buttiamo nel mondo dell'horror, ok? Quindi abbiamo avventura, fantascienza, horror western, geniale questa roba, cioè in un unico volume ci buttiamo dentro i quattro principali motivi di crescita di vita della Bonelli, quindi bravi tutti quelli che hanno confezionato questo volume. Cosa c'entra il mio regalo dei 40 anni con questo volume? E beh, e beh, e beh, allora, io vi dico soltanto che se ce l'avete andate a pagina 40, andate a pagina 40, stoppate il video, guardatela, guardatela con attenzione e poi riprendete questo video. Perché? E adesso ve lo faccio vedere. Allora, io faccio l'unboxing, ma in realtà il regalo l'ho già aperto. Perché? E cavolo, l'ho aperto davanti i miei amici che me l'hanno regalato e quindi, insomma, mi sembrava anche brutto andarmela a casa e dire, poi faccio l'unboxing e faccio il video a tutti quanti. No, ovviamente no. Quindi sono veramente di nuovo un bambino. Perché apro il mio regalo per la seconda volta. Allora, beh, questo è un pezzo di carta che va a coprire. Questo regalo ha questa grandezza, ok? Guardate il mio faccione. E questa roba qua l'ho chiuso, è veramente chiuso, l'ho richiuso come se fosse la prima volta che apro questo paccone. È molto fragile perché c'è uno specchio, cioè c'è del vetro non ci metterò tanto ad aprirlo, perché c'è un po' di carta, ma in realtà ecco qua, ecco qua, ecco qua. Madonna mia. Già sto impazzendo, ve lo dico, ve lo dico, ve lo dico, ve lo dico. Ecco qua. Allora, butto via, via. Cos'è che vi faccio vedere? Avete visto? È un quadro, ok? È un quadro e qui abbiamo una dedica. La voglio leggere. Cadrò nel, boh, non lo so, sarò uno smianato provolone, ma non importa. Allora, a Igor, pagina 40, la stessa a cui sei arrivato tu. Eh sì, la pagina 40 della mia vita, che figata, sono poetici questi amici. Puoi essere orgoglioso della storia disegnata fin qui, che tu possa aggiungere tantissime altre del fumetto più bello, che è la tua vita. Noi siamo felici di farne parte, buon compleanno, con grande affetto. Mari Alfa, Edo, Giorgio e Giulio sono commosso, sono commosso, non sono i miei amici, ma qui è l'autore, cioè Tommaso Bianchi, l'autore di cosa? Di questa figata pazzesca, di questa figata. Adesso chissà se con queste cavolo di luci riuscirete mai a vederla. Allora, vi faccio solo vedere, vedere, di nuovo questo volume. Eh sì, perché qui Tommaso Bianchi, prima l'ho nominato molto velocemente per crearvi un po' di hype. A pagina 40, lui appunto, si è occupato della parte fantascientifica, a pagina 40 abbiamo queste sei vignette, ok? Beh, non vi nascondo che vederle disegnate nuovamente per me mi ha fatto impazzire. Queste sono state nuovamente rielaborate da lui. Chissà se riuscirò mai a farvi vedere la differenza. Porca misera, non voglio sminuire questo volume, però ragazzi, insomma, una tavola originale contro una stampa e un'altra roba. Guardate che roba. Adesso provo, provo, provo a girare la camera nuovamente, vi faccio fare un po' uno zoom delle singole vignette e godete insieme a me. Godete insieme a me. Eccoci qua. Eccoci qua. Qui abbiamo appunto la tavola impaginata dalla Bonelli con ovviamente i balù. Non sono tanti, sono pochissimi. Si fa riferimento soltanto, insomma, è tutta colpa mia. il numero 100, si fa riferimento ovviamente alla testata in corso, anzi, in chiusura. E qua ovviamente vedete le tavole originali. Eccola qua. Adesso vedete un po' di di riverbero, di riflesso. Guardate soltanto l'originale e poi la realizzazione. Qui guardate che roba l'originale, che cavolo di roba è. Mamma mia. Mamma mia. Ecco così, così ve la faccio vedere bene. Guardate che bello. Spettacolare. Tommaso Bianchi. Qua veramente è una roba che appendo immediatamente. E quindi questa, vabbè, la conoscete, è la mia libreria e da oggi quando farò i miei video e sì, troverete proprio alle mie spalle la tavola che vi ho fatto vedere. Avete già la nausea. Ma mi dispiace perché tanto con questo vetro perché hanno voluto fare una roba veramente figa, un doppio vetro. Quindi dal vivo si vede benissimo ma col mio cellulare non si capisce una mazza. O meglio, non rende l'idea. Ecco, però guardate solo che roba, guardate che roba. Cioè, io sarò lì a fare i miei video e intanto e intanto ci sarà la tavola. Mamma, sono felice ma che figata. E rieccomi qua, eh? Come promesso, eccola lì, come detto, io sono contentissimo di questa cosa. Cioè, non so quanto a voi interessa ma sono veramente contentissimo. Vabbè, vi faccio una domanda, vi coinvolgo un po' nel contenuto di questo video. Vi hanno mai regalato una tavola originale o l'avete mai comprata? Ve la siete mai regalata? Avete voglia di appenderla da qualche parte? perché gli sketch che sono lì alle vostre spalle io li adoro, ok? Quindi i disegni che magari gli artisti riescano a farmi in fiera soprattutto mi fanno impazzire l'inquadro e cerco di mettermi. Poi in realtà vi farò vedere la collezione completa dei miei sketch impazzirete. Una tavola originale per me è la prima volta. È veramente un'emozione incredibile, ok? A parte che bello brutta che sia è comunque un lavoro originale di un artista quindi da premiare, da celebrare. In più se una figata pazzesca come quella e ha un valore ovviamente legato alla pagina 40 quindi insomma alla quarantesima pagina della mia vita come i miei amici mi hanno scritto il valore ovviamente è ancora maggiore. Ma che cosa è successo? Molto semplicemente che loro pensavano di alzare il telefono e dire oi ciao Tommy mi fai la tavola per Igor? E che questo in tre secondi e no perché Tommaso Bianchi sta lavorando ormai da tempo per Dragonero anzi doveva correre come un pazzo a consegnare il numero che a breve uscirà in edicola anzi non vedo l'ora di leggerlo numero 27 sì numero 27 non vedo l'ora che esca perché me lo voglio godere assolutamente lui poi è molto molto bravo bene quindi sostanzialmente gli ha detto ai miei amici non c'è problema ovviamente io la vostra commission ve la faccio però dovete aspettare dovete aspettare altro che compie anno siamo andati mesi e mesi dopo il mio compie anno parliamo di almeno tre mesi non di ritardo perché non lo definiamo così sono i miei amici che non sapevano che i tempi per un artista sono così lunghi ma semplicemente perché non è che puoi dire Labonelli scusami Masiero perdonami come si chiama Luca Barbieri il curatore di Dragonero pure Eno Covietti perdonatemi devo fare il disegno a Igor no non funziona così e allora gli ha fatti attendere e quindi per scusarsi cosa ha fatto poteva non fare niente perché è il suo lavoro ma per scusarsi mi ha regalato questi che però non vi posso far vedere o meglio adesso io cercherò di contattarlo su Instagram e chiederò a lui se posso girarli e farli vedere sono tre capolavori che mi fanno impazzire uno due e tre non vi posso neanche dire niente insomma niente ma vi prometto che se lui mi dà l'ok io girerò anzi magari farò un video soltanto su quello e ve li farò vedere e poi e poi non solo mica gli bastava niente ha fatto anche un piccolo sketch questo è tutto mio qui abbiamo Dragonero disegnato veramente bene molto molto bello che spettacolo a me è dedicato anzi mi dice tu ho coscritto più uno perché lui è dell'ottanta io sono dell'ottantuno e niente quindi anche la sua firma sotto ovviamente anche questo io andrò ad appendere chiaro sono due cose completamente diverse questo appunto è uno sketch e quello è un una tavola originale un qualcosa di che ha una potenza un'importanza decisamente diversa però cosa vi devo dire sono contento sono contento perché i miei amici mi hanno fatto un regalo inaspettato sono contento perché quella tavola è fichissima perché è la mia prima tavola originale perché potrò finalmente fare dei video con uno sfondo ancora più bello rispetto a prima perché adoro il fumetto e perché mi piace essere qui a parlare con voi ecco perché sono contento basta la smetto anzi devo montare questo video perché ho fatto un casino pazzesco vi saluto vi ringrazio fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa gran figata nei comment ci vediamo al prossimo video un po' un po' un po' Grazie.